Andiamo invece al sodo, alla ciccia, Niccolò. La ciccia è che la Fiorentina ha preso i conè, è un'operazione che ho verificato anche oggi è da 15 milioni di euro più 3 di bonus, 5 anni di contratto al ragazzo e credo, se non ho capito male, che allora loro giocano il Lille contro il Bordeaux mercoledì prossimo per cui dopo questa partita credo che i due club si metteranno d'accordo in maniera definitiva sulle modalità del trasferimento che vorrebbe dire anche permettere ai conè di cominciare a fare il primo allenamento alla ripresa della preparazione in vista della partita con l'Udinese cioè con una sorta di deroga ci potrebbe essere per farlo arrivare in Italia prima del deposito del contratto il 3 di gennaio ricordando che la Fiorentina ha il seggio che era contro l'Udinese quindi c'è questa volontà, oggi il Lille non apre bocca, la Fiorentina ancora meno ma quello che so io è questo